Musica Sabato 21 aprile, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. E' finita a mezzanotte la campagna elettorale per le elezioni regionali di domani. I quattro candidati alla presidenza della regione e i big nazionali intervenuti per sostenerli hanno tenuto i comizi nelle città più importanti del Molise. Non sono mancate scintille tra Forza Italia e Cinque Stelle. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Come sempre si è chiusa a mezzanotte la campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica. I quattro candidati alla presidenza e le liste ad essi collegate hanno tenuto i comizi finali nelle città più importanti della regione. Ma procediamo seguendo l'ordine riportato sulla scheda elettorale. Il primo è l'aspirante governatore della coalizione di centrodestra Donato Toma che ha concluso la sua campagna elettorale in piazza prefettura a Campobasso insieme al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Nel suo intervento Toma ha riproposto il programma di governo illustrandone i punti più qualificanti. Lavoro, sanità pubblica, viabilità, opere pubbliche, valorizzazione della risorsa idrica, agricoltura, ambiente e turismo. Sono questi i settori sui quali Toma punta per rilanciare lo sviluppo del Molise senza trascurare, ha detto, un'attenzione particolare alle fasce più deboli della società e ai disabili che devono essere aiutati di più e meglio. Sono pronto a governare il Molise e sarò il presidente con le mani libere, ha concluso Toma. Berlusconi, invece, ha attaccato a testa bassa il Movimento 5 Stelle definendo i pentastellati persone inaffidabili che non hanno mai lavorato e che quindi non sono in grado di governare né l'Italia né il Molise. Non darò mai i voti di Forza Italia a Di Maio, ha concluso l'ex cavaliere. Il centrodestra si presenta al voto con nove liste a sostegno di Donato Toma e secondo l'ordine sorteggiato per la scheda elettorale sono Popolari per l'Italia, Popolo della Famiglia, Fratelli d'Italia, Movimento Nazionale per la Sovranità, Lega di Salvini, Forza Italia, Unione di Centro, Orgoglio Molise e Iorio per il Molise. Il candidato presidente del centro-sinistra, Carlo Veneziale, ha concluso invece la sua campagna elettorale in piazza Celestino V a Isernia. Veneziale ha ribadito con puntiglio i punti salienti del programma di governo. Lavoro, 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 ha sottolineato da palco e per crearlo utilizzeremo gli strumenti già programmati per combattere la disoccupazione. E poi la sanità pubblica di qualità integrata con le eccellenze accreditate, infrastruttura, salvaguardie dell'ambiente, turismo e agricoltura. Abbiamo risanato i conti in questi anni, ma ora parte una nuova fase che può cambiare in positivo le sorti del Molise, ha concluso Veneziale tra gli applausi dei suoi sostenitori. Il centro-sinistra si presenta all'appuntamento elettorale con cinque liste a sostegno dell'aspirante governatore Carlo Veneziale. In ordine di scheda sono il Molise di tutti, Molise 2.0, liberi e uguali, Unione per il Molise e Partito Democratico. Rush finale anche per il Movimento 5 Stelle, con il candidato presidente Andrea Greco e tutto lo Stato Maggiore dei Pentastellati, che hanno tenuto prima un comizio a Termoli, in Piazza Monumento e poi a Campobasso in Piazza Municipio. L'aspirante governatore Andrea Greco ha ribadito i dieci punti del suo programma. Lavoro, sostegno alle piccole imprese, sanità pubblica, eliminazione dei vitalizi e dimezzamento delle indennità dei consiglieri regionali, lotta agli sprechi, alla corruzione e alla criminalità, soppressione degli enti inutili, tutela dell'ambiente, valorizzazione del turismo e dei beni culturali, reddito di cittadinanza, sostegno alle famiglie povere e ai diversamente abili, con un sistema di welfare rinnovato e incisivo, e infine potenziamento della viabilità principale e secondaria. Manderemo a casa la vecchia classe politica incapace, affarista e piena di conflitti di interessi, una classe politica che ha distrutto il Molise in questi anni, ha tonato Andrea Greco dal palco. Vinceremo le elezioni e daremo ai cittadini un governo regionale capace di invertire la rotta, ha concluso l'aspirante presidente. Scintille poi contro Silvio Berlusconi. Non faremo mai un governo con Forza Italia, hanno detto Di Battista e Di Maio, e il Molise sarà la prima regione governata dal Movimento 5 Stelle. Andrea Greco è sostenuto da una sola lista, quella del Movimento 5 Stelle. Infine, Casa Pound ha concluso la fatica elettorale con il candidato presidente Agostino Di Giacomo e diversi dirigenti locali del Movimento che hanno incontrato gli elettori in alcuni comuni del Molise. L'aspirante governatore Agostino Di Giacomo ha sottolineato i punti più importanti del suo programma. Primo tra tutti, la creazione di lavoro stabile con assunzioni a tempo indeterminato per azzerare la precarietà insita nei contratti a termine e a chiamata, lotta alla disoccupazione, adeguate politiche sociali per i più deboli, centralità della sanità pubblica, lotta all'immigrazione clandestina, sostegno finanziario per incentivare l'acquisto della prima casa e sviluppo dell'agroalimentare. Anche l'aspirante governatore Agostino Di Giacomo è sostenuto da una sola lista, quella di Casa Pound. Da oggi silenzio elettorale e domenica seggi aperti dalle 7 alle 23 a seguire lo spoglio delle schede per conoscere il nuovo presidente del Molise e i nomi dei 20 consiglieri regionali. Dunque domani il Molise ha le urne per eleggere il nuovo presidente della regione e i 20 consiglieri che comporranno la nuova assemblea di Palazzo Daimmo. Ascoltiamo dati e modalità di voto nel servizio di Pasquale Di Bello. Tutto pronto per le elezioni di domenica prossima, 22 aprile. Il Molise è chiamato ad eleggere il nuovo presidente della regione e il nuovo consiglio regionale. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Gli aventi diritti al voto sono 332.653. Tra questi i residenti all'estero sono 78.025. Saranno 394 le sezioni allestite nei 136 comuni della regione. Tre le rilevazioni previste per l'affluenza alle urne alle ore 12, 19 e 23. Come si vota? L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. L'elettore può votare un candidato presidente, votare una lista e il voto si estende al candidato presidente collegato, oppure votare un candidato presidente e una delle liste collegate. Non è ammesso il voto disgiunto. L'elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati a consigliere regionale della lista prescelta, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Se esprime due preferenze, queste devono essere di genere diverso per una donna e per un uomo o viceversa. In caso contrario, la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima. Diventa presidente della regione chi ottiene il maggior numero di voti. Insieme al nuovo presidente, i volisani sono chiamati ad eleggere 20 consiglieri regionali che andranno a comporre la nuova assemblea legislativa. Incidente ieri sera alla rotatoria tra via Trentino e via San Giovanni a Campobasso. Un uomo si è ribaltato con la sua auto, una 600, vedete questa foto, sul posto 118, polizie e vigili del fuoco. L'uomo è stato portato in ospedale al Cardarelli. E' tutto, termina qui il nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Partiamo con il giornale del Molise, punto it, campagna elettorale, chiusura col botto, scintille tra il Movimento 5 Stelle, Silvio Berlusconi, poi Isernia, scienze infermieristiche, centro prenotazioni Asrem nel centro storico, Santa Croce di Magliano, esplosione all'esterno del municipio, indagini in corso. E poi ci sono le altre notizie sul giornale del Molise, punto it. Vediamo primo piano Molise come titola. Berlusconi e Di Maio si incrociano in Molise. Ieri sera i comizi in concomitanza. Il Cavaliere, se il centro-destra vince, compro casa. Qui il capo di 5 Stelle, mai con forza Italia. Se Greco ce la fa, il Movimento governerà il Paese. Dunque, gli ultimi appelli. Veneziale parla dal cuore della sua Isernia e Agostino Di Giacomo in giro ad attaccare manifesti. Dunque, cala il sipario sulla campagna elettorale. Domani si vota per il rinnovo del Consiglio regionale. Urne aperte dalle 7 alle 23. Dramma alla molisana. Operaio muore durante il turno di lavoro. Salta la visita dell'ex premier al pastificio Toma. Mi unisco al dolore della famiglia. Il Molise c'è, Trivelle e Gasdotti. La protesta a Sulmona. Taglio alto, differenziata. Il comune non paga il fornitore dei mezzi. E poi Ferrazzano, picchiati dai vicini anziani coniugi, finiscono in ospedale. Terrore nella notte a Santa Croce di Magliano. Attentato incendiario all'ingresso del municipio. Il sindaco candidato dice non mi lascio intimidire. Centrato un terno a Campobasso, lotto fortunato scommettitore, porta a casa 109 mila euro. Per quanto riguarda invece le notizie di sport, calcio serie D, Campobasso un solo risultato con la vastese. Il lupo deve interrompere la serie negativa. Per l'eccellenza, Isernia, polemiche per il mancato affidamento dello stadio in gestione. E calcio a 5, Chaminade, parte la scalata alla serie A con i play-off. Vediamo adesso il quotidiano del Molise, gli occhi dell'Italia sul Molise. Ieri la chiusura della campagna elettorale dei candidati, oggi scatta il silenzio. Prima di dare la parola alle urne, centrodestra Toma e Berlusconi, puntate sulle persone per bene, centrosinistra Veneziale, scegliete il vostro presidente, non i big romani. 5 Stelle, bagno di folla per Di Battista e Di Maio, greco dice ora la storia. Casa Pound, Agostino Di Giacomo, noi al servizio della comunità, tra la gente. E ci sono le foto. Poi Santa Croce di Magliano, bomba incendiaria davanti al nuovo municipio. Campobasso, Tris d'Oro all'otto, 209 mila euro. Boiano, madre coraggio, fa arrestare figlio violento. Per quanto riguarda invece le notizie di sport, calcio serie D, Campobasso con la vastese test salvezza con l'obbligo del successo, calcio a 5, 57esimo torneo delle regioni in Umbria, presente anche il Molise. Futuro Molise, esplosione nella notte a Santa Croce di Magliano, vicino al municipio. Poi Isernia, lavoro irregolare e sicurezza dei lavoratori, denunciate 8 persone dai carabinieri. E Vinitaly 2018, bilancio positivo e boom di presenze allo stand del Molise. Poi niente, xylella fastidiosa per gli olivi di Venafro, falso allarme. E ancora oggi al Musec di Isernia si parlerà della tradizione artigianale, simbolo del capologo Pentro, il tombolo. Termoli, Comitato Santimoteo, punto nascita a rischio chiusura. I quotidiani nazionali adesso, Stato mafia, 12 anni, a Dell'Utri Salvini, strappo con Berlusconi, è il titolo in evidenza della Repubblica, i giudici di Palermo, la trattativa ci fu. Intanto Movimento 5 Stelle, Pietra Tombale, su Forza Italia, prove di accordo con la Lega. Per quanto riguarda la politica, c'è questa foto con l'esultanza degli attivisti di scorta civica e agende rosse ieri in aula a Palermo dopo la sentenza. Poi ci sono le altre notizie. Nord Corea, la mossa di Kim, stop missili, fermiamo i test atomici, Trump, buona notizia. Passiamo adesso a vedere come titola invece il Corriere della Sera. Strappo nel centrodestra, il sondaggio La Lega avanza, la mediazione con i partiti rallenta il Movimento 5 Stelle, il leader di Forza Italia attacca il Movimento Lira del capo leghista Quirinale, due giorni di verifiche. Poi per i giudici ci fu la trattativa Stato mafia, Berlusconi in realtà falsata, denuncio il PM. C'è poi dopo il commento, la sentenza può pesare sulla nascita del governo. Poi ci sono le altre notizie sul Corriere della Sera. Passiamo adesso a vedere la stampa di Torino, Di Maio Salvini verso il governo. Lo scenario cambia per lo scontro Forza Italia-Grillini, è il processo di Palermo, ma il Colle pensa anche alla carta Fico. La Lega prepara la rottura con Berlusconi, gelo di mattarella sul capo del carroccio, la trattativa Stato mafia ci fu condannati ex vertici del Rosse e dell'Utri, assolto invece Mancino. con i soldati italiani sul fronte di Al-Shabaab, Mogadiscio a bordo dei lince tra clani jihadisti, la lotta sarà lunga, qui c'è bisogno di noi. L'altro titolo della stampa. Poi i diari di Comey, Putin e donne, le ossessioni di Trump nel memo FBI. Passiamo adesso a vedere la prima pagina del messaggero, Berlusconi Salvini, divorzio vicino. Il Cavaliere apre, al PD attacca il Movimento 5 Stelle, a Mediaset pulirebbero i bagni, la replica amico dei boss, lira di Salvini, allora vai da solo e prepara l'intesa con Di Maio verso l'esplorazione di Fico. Ci sono poi commenti politici, ma c'è anche la notizia statomafia, ci fu trattativa a 12 anni a Mori e Dell'Utri, con danni anche per gli ex del Ross Subranni e De Donno e per Ciancimino Junior assolto Mancino. Poi Roma, trovata da un uomo che faceva jogging, ho visto il fumo, arsa viva, orrore nel parco dell'Eur, il giallo della donna che viveva sola. Vediamo adesso la prima pagina di Libero, ha vinto la scemocrazia, questo è il titolo, recita penosa fra i partiti, assistiamo alla commedia più lunga e noiosa della storia repubblicana, scrive Libero, senza neppure guizio colpi di genio e questi politici che in realtà sono degli artisti sprecati, dovrebbero salvare la democrazia? L'interrogativo siamo disgustati, scrive ancora Libero e Berlusconi dice Grillini, pulisci i cessi, meglio il PD, Di Maio chiama Salvini, mollalo e governiamo. Poi Vallanzasca deve morire in prigione dopo 49 anni di detenzione i giudici rifiutano di scarcerarlo. Passiamo adesso a vedere la prima pagina del Sole 24 Ore, Trump apre il fronte OPEC, il presidente sfida il cartello, prezzo del petrolio inaccettabile, casa bianca, contro l'ipotesi di nuovi tagli produttivi, l'Arabia Saudita nega speculazioni, i forti sbalzi del greggio. Poi debito pubblico, rating e spread, l'occasione che l'Italia sta perdendo. Passiamo alla verità, Berlusconi riapre il forno del PD ma a bruciare è il centrodestra, il Cavaliere e i Grillini a Mediaset pulirebbero i cessi, meglio i Dem, l'ira di Salvini così si sfila dalla coalizione vado avanti da solo, sepolta l'intesa che giovedì pomeriggio sembrava fatta, si va verso un governo tra 5 Stelle, Lega e forse Fratelli d'Italia è l'interrogativo. Poi l'esploratrice si è persa gli accordi per strada, scrive ancora la verità e poi fatture false dei Renzi per pagare il mutuo e il virgolettato avrebbero usato l'ingiusto profitto ottenuto con tre paginette per saldare le rate di un finanziamento, scrive ancora la verità. vediamo adesso il tempo onore a Mori è il titolo in evidenza trattativa stato mafia raffica di condanne nonostante manchino indizi e prove verdetto politico la sentenza serve solo a spianare al Movimento 5 Stelle la via di Palazzo Chigi mancino assolto dice al tempo io crocifisso a suon di bugie c'è poi dopo la politica e il mistero della donna in fiamme nel parco giallo a Roma italiana 49enne trovata carbonizzata le tre fontane si indaga per omicidio dal tempo passiamo al mattino di Napoli anche qui stato mafia condannati Mori Dell'Utri e i boss e poi Berlusconi Salvini e Rottura Cavaliere Movimento 5 Stelle è un pericolo meglio il PD Ira Lega vai pure da solo e c'è poi dopo questa foto di Berlusconi a Casa Calenda che suona il Bufu vediamo adesso come titola il manifesto rissa a destra ma l'alleanza tiene Berlusconi 5 Stelle a Mediaset potrebbero pulire i cessi così ha detto poi il colle verso l'incarico a Fico un filo di fumo tra PD e Casaleggio e poi lo Stato a pezzi la trattativa con la mafia c'è stata la sentenza di primo grado condanna pezzi delle istituzioni alti gradi dell'arma boss di Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri per attentato ai corpi dello Stato esulta il PM di Matteo che chiama in causa Berlusconi assolto l'ex ministro Mancino vediamo adesso come titola invece il secolo d'Italia piano segreto Movimento 5 Stelle partito democratico Meloni chiarisce no al PD ma retta nel centro-destra Stato mafia la sentenza e l'assist al governo Fico e poi Francia schiava degli Stati Uniti così Assad umilia Macron vediamo adesso avvenire la mala trattativa il titolo il Tribunale di Palermo conferma in parte le accuse per i negoziati con la mafia dopo le stragi Forza Italia querela il PM Di Matteo condannati boss carabinieri del Ross e dell'Utri assolto Mancino Movimento 5 Stelle Pietra Tombale sul Cavaliere poi Francesco come Don Tonino il Cristiano vive per gli altri da Alessano a Molfetta il Papa sulle orme del Vescovo Servitore pattosi popolo la Gazzetta dello Sport Allegri Sarri giocatevelo così è il titolo Juventus Napoli è un duello scudetto per due tecnici toscani che hanno vinto le ultime panchine d'oro l'allenatore bianconero cambia e bada al sodo quello degli azzurri resta fedele al suo stile di gioco stavolta è resa dei conti la sfida in campo le linee di Max Allegri contro i Folletti Milik la carta in più del Napoli Buffon e company stravincono la partita dei like c'è questa foto con Allegri e Sarri che giocano biliardino a calcio balilla e poi ci sono le altre notizie diavolo gattuso un girone è passato riecco il Benevento per la gara dei Rossoneri alle 20.45 e poi Pizzo 80 da Caimano io l'oro e Bad una vita da film intervista al mito della palla nuoto con la gazzetta dello sport termina la nostra rassegna stampa il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise come sempre in diretta alle 14 con il telegiornale grazie per averci seguito buona giornata grazie per averci seguito